Ciao a tutti e bentornati sul canale! In questo video vi mostro come decorare la tipica zucca di Halloween. Ho acquistato una zucca per uso non alimentare, ideale per essere incisa. Per intagliare la zucca e recuperare il suo interno ci occorre un pennarello nero a punta fine, un coltello affilato, meglio se in ceramica, un cucchiaio e un piatto. Con il pennarello traccio la sagoma della parte superiore della zucca. Intaglio con il coltello in ceramica facendo molta attenzione a non tagliarla. Rimuovo la parte intagliata e con il cucchiaio recupero tutto l'interno della zucca. Alla fine deve risultare pulita. Alla fine deve risultare pulita. Ripeto le operazioni appena finita disegnando gli occhi, il naso e la bocca e intaglio il tutto. Appena Grazie a tutti. Rifinisco le parti intagliate in modo da rimuovere tutti i filamenti. Per completare il mio lavoro inserisco all'interno una piccola candela. Ed ecco a voi la mia zucca di Halloween. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente. E per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto! Grazie. Grazie.